Musica Io mi auguro di sì, anche se per la verità non è che lo abbia notato questa mattina. Ritengo tuttavia che i tempi comincino a stringersi. Giovedì è stato fissato un incontro tecnico, nel senso che verranno i tecnici a mettere insieme i progetti che l'alto calore ha già predisposto per quei comuni dove le perdite idriche sono più elevate. Noi abbiamo una piantina complessiva di tutti i 127 comuni che gestisce l'alto calore, nella quale sono indicate progressivamente le perdite che si realizzano. Il progetto unico che intendiamo portare avanti insieme alla provincia e agli altri componenti del tavolo è quello di puntare sui progetti già pronti che attengono a comuni diversi, cercando di farlo diventare un unico progetto che possa essere inteso come grande progetto dalla regione e dunque essere finanziato con i finanziamenti europei. Ma per gradi si procederà sicuramente perché non sarà possibile intervenire su tutti i comuni nei quali le perdite sono presenti. Sarà necessario valutare il progetto unico che noi presenteremo con l'accompagnamento della provincia e all'interno di quel progetto, che evidentemente presenterà una richiesta di finanziamento molto elevato, vedere quali saranno le disponibilità della regione e partire dai comuni dove le perdite sono più elevate. Ma ripeto, fino alla noia queste polemiche mi sembrano davvero strumentali e pretestuose. L'alto calore ha fatto transazioni con tutti i comuni, con tutti i comuni che le hanno richieste e sono state in genere transazioni nelle quali l'alto calore è anche ceduto in qualche misura rispetto alle richieste dei comuni. Nel caso di Mose non c'è stato nessun tipo di cedimento, il Comune di Montemiletto ha fatto una transazione per pagare nel tempo il proprio debito con l'addebito degli interessi legali che molto spesso ad altri comuni non sono stati addebitati. Grazie a tutti.